Sì, allora ci perdono in questo momento il tempo di Silvio 40, Sofi, Gli altri no, gli altri no, gli altri no... Ai tuoi, Signore. Eh ma che non riesci a fare? Ah non riesci a fare... Ah non riesci a fare? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.